E ciao a tutti ragazzi sono TheGiant e ben ritrovati in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi siamo tornati con una nuova reaction ad un giocatore che si è appena trasferito in questa sessione di mercato ragazzi Prima di iniziare mi raccomando vi invito a superare di nuovo i 1500 mi piace Il prossimo video sarà su Cioric perché me l'avete chiesto in tantissimi E poi dal prossimo video vi rimetterò il sondaggio nelle schede con il prossimo giocatore su cui fare la reazione Mi raccomando ragazzi asciutto un bel mi piace Se arriviamo a 2000 mi piace a 1500 like faccio una nuova reazione a Cioric Se arriviamo a 2000 like la faccio a Piris La prima volta che vi ho chiesto 2000 like era per il TheGiant Best Skills and Goal Ed è uscito sul canale se non l'avete visto andate a guardarlo perché è fantastico Creato direttamente dal legionario decimo che fa dei video favolosi ragazzi vi lascio il suo link in descrizione E in descrizione c'è anche il link delle maglie su socialdialshop.com Il codice Giant 15% di sconto ma è dei mondiali favolose Ma direi di non perderci in chiacchi Ma che cazzo Direi di non perderci in chiacchi ragazzi oggi andiamo a parlare di João Cancelo Come avete visto dal titolo che si è appena trasferito dal Valencia alla Juventus Dopo l'apparizione che ha avuto nell'Inter L'Inter non ha deciso di riscattarlo per ovvi motivi di budget di fair play finanziario più che altro La Juve ne ha approfittato e l'ho acquistato per un quarantina di milioni circa Ma adesso andiamo a gustarci questo video di AJ Comps HD Vi lascio come sempre il suo link in descrizione e siamo qui ragazzi João Cancelo welcome to Juventus Su 2016 subito una manata di De Vrij Nell'ultima di campionato De Vrij, De Vrij E qui Cancelo con la maglia del Portogallo Io ancora non capisco come abbia fatto il Portogallo a non convocare Cancelo Qui l'assist di Cancelo per Riccardi contro la Juve Un altro assist Sì, due assist per i gol di Ranocchia Allora, parliamo un pochettino di questo giocatore Sicuramente penso abbia bisogno adesso di un periodo di ambientamento Perché comunque ha fatto il suo percorso all'Inter E dopo un inizio un po' difficile Si è ambientato benissimo Ed è stato molte volte anche decisivo Secondo me sarà ovviamente il titolare Data la partenza di Lich Steiner Avrà De Sciglio a farlo rifiattare ogni tanto Secondo me se migliora la fase di difesa Guardate qua i giochetti che fa E tecnicamente è un'ala secondo me Ha delle doti tecniche da ala assolutamente Se riesce a migliorare anche la fase difensiva Anche se qui abbiamo visto un buon intervento difensivo Secondo me diventa uno dei terzini più forti in circolazione Secondo me Per quanto riguarda la spinta offensiva Nulla da dire ragazzi C'è salta all'uomo con facilità In una maniera disarmata Guardate C'è salta all'uomo in una maniera disarmante Vedremo il numero che prenderà Il 7 non è un numero da terzino Secondo me è bruttino Qui contro il Pordenone No boh non mi ricordo E comunque la Juventus secondo me ha fatto un colpaccio Non parlerei tanto del valore del cartellino Perché comunque Ormai i prezzi che girano sono questi ragazzi Non possiamo stupirci più di tanto ormai Per i prezzi che girano sui giocatori Comunque Cancelo ha dimostrato che i 40 milioni può valerli Molti tifosi dell'Inter si stavano un po' mangiando le mani Perché era diventato un po' il beniamino Si erano affezionati un attimino Perché comunque ha detto a loro anche E lo capiamo E dai tempi di Maicon che comunque non vedevano un terzino Buono e decente su quella fascia Secondo me Cancelo Però vedete Interventi li ha fatti parecchi Sapete cosa? Essendo veloce Riesce a rientrare velocemente Però Spesso Siccome attacca molto Si ritrova in ritardo Nelle azioni Nelle azioni difensive Della squadra Quindi può essere questo Il problemino Però Mamma mia Passi Cosa è sbagliato qui? Dovrebbe essere il Pordenone questo Questo è quello che voglio dirvi Nelle azioni Avanzando molto Essendo un terzino Molto di spinta Certe volte Si ritrova a rincorrere Il pallone sulla sua fascia Per recuperare L'avversario che sta attaccando Sulla sua fascia E riesce a recuperarlo Perché è veloce Però Difficilmente Raramente Si trova lì In anticipo Quando attaccano Gli avversari Qui Mamma mia Qui L'orrore clamoroso Di Icardi Dovrebbe aver fatto Un gol solo Su punizione Che non ha toccato nessuno Non ricordo Però ha fatto Un sacco di assist Ragazzi Cioè Stiamo vedendo Un sacco di assist Non me ne ricordavo Ne avessi fatti così tanti Poi fai dei cross Tagliati Eccezionali Cioè Guardate che cross fa Quanti assist avrà fatto Non ho controllato Prima di fare questo video Scrivetelo Voi qui sotto Nei commenti Salta l'uomo In una maniera disarmante Ragazzi Cioè Se ci trova Già nella posizione Difensiva Nell'uno contro uno Difensivo Può dire la sua Cioè E' bravo Però certe volte Molto spesso Si è trovato A rincorrerlo L'avversario Che aggirava Sulla sua fascia E Fa dei cross Ragazzi Paurosi Comunque Non mi ricordavo Avesse fatto Questi tanti assist Ecco Questo è un altro assist Non so se siamo Vabbè Non è un assist Fantacalcistico Però è un assist Non lo so ragazzi Io voglio Il parere Un po' di tutti Poi è velocissimo Voglio il parere Sia dei tifosi interisti Che lo hanno avuto E che Penso E volevano Volevano tenerlo Perché Ho visto parecchi interisti Mangiarsi le mani E voglio il parere Anche dai tifosi Juventini Perché Sicuramente Giocherà titolare E si alternerà Moltissimo Con De Scilio Perché la Juventus E' impegnata Su tre fronti Che cazzo L'è successo Ah Il video va avanti Però si è bloccato Che succede? Niente Finisce Finisce così Grandissimo Controllalo Prima di Pubblicarlo Comunque ragazzi Questo qui E' Cancelo Fatemi sapere Voi qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Che voto date A Cancelo Per me E' un acquisto Fantastico Dalla Juventus Ripeto Metto da parte Il valore Del cartellino Perché ormai Non si può più Ragionare In questo senso Perché ormai I cartellini Costano minimo 30 milioni Lo stiamo vedendo L'ho visto negli anni Però secondo me In prospettiva Li varrà tutti Assolutamente Secondo me farà molto bene E crescerà tantissimo Nella Juve Come è già cresciuto Tanto con l'Inter Ragazzi Mi raccomando Arriviamo a 1500 like Per la reazione a Cioric E arriviamo a 2000 like Se volete La reazione a Piris Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per ricevere tutte le feed Dei miei video Passate dal mio profilo Instagram JoeGiant Mi raccomando Perché vi tengo sempre Aggiornati su tutto Faccio delle storie divertenti Eccetera eccetera Il video è finito Da Di Gianto è tutto E ciao aglio Ciao Ciao Ciao